Francesco, cresci professionalmente in questo ambito e quindi ottenere maggiori basi per immergermi nella ricerca clinica? Ti sei immerso in questa ricerca clinica? Sì, assolutamente. È stato un corso approfondito e che ci ha dato le basi per capire appunto quello che vuol dire lavorare nella ricerca clinica, cosa che magari prima non avevamo bene in mente quando c'era stata la possibilità di approfondire all'università. Quindi sì, l'obiettivo ho raggiunto. Benissimo, Camilla. Soddisfare la mia personale curiosità e avere inoltre più possibilità in ambito lavorativo per scegliere io stessa il lavoro che vorrò fare, non dovermi accontentare. Questo davvero è molto importante. Non vi accontentate, lo dico anch'io. Ciao, mi sentite? Sì. Sì, sì. Eh, niente, decisamente sì, la cosa più bella è stata proprio imparare, cioè ogni volta che facciamo lezioni alla fine pensavo di aver capito una cosa e la volta dopo c'era qualcosa in più da aggiungere, è stato proprio bello e niente, poi tra tutti gli sbocchi lavorativi ho anche capito cosa voglio fare, quindi contentissimo. Lo vuoi condividere? Sì, cioè proprio mi sono convinta, sono convintissimo. Bene, allora guardate comunque ora il sorriso a 50 denti di Camilla e l'entusiasmo che sprigiona. È chiaro che se ne accorgono in un colloquio di queste cose qui, quindi a prescindere dalle competenze che ormai mi auguro di tutti quanti voi abbiate, beh, è chiaro qualcuno probabilmente avrà approfondito di più, qualcuno un po' di meno, qualcuno è più coinvolto, qualcuno meno, ma è proprio l'entusiasmo, quello fa la differenza a parità di competenze. Un bricio di entusiasmo in più può fare la differenza. Grazie Camilla.